L'Ecoparco di Eccolan ha consentito ai residenti del quartiere Santarita-Lanciano di riappropriarsi di uno spazio pubblico, utile per la raccolta differenziata e ricco di servizi per il tempo libero. Ma alcuni soggetti, dediti abitualmente alla delinquenza, non demordono. Hanno iniziato già prima dell'inaugurazione con furti delle altalene e atti vandalici, nonostante la presenza di sette telecamere di videosorveglianza installate nell'area. Dopo la rissa di fine giugno che vide due famiglie rom contendersi a suon di mazze e spranghe a un alloggio popolare, la tensione è aumentata. Residenti e commercianti raccolgono le firme e presentano un esposto in procura. Non ne possono più, dicono, di minacce, insulti e sopprusi quotidiani. Molto spesso anziani e bambini e adolescenti vengono terrorizzati, si legge nell'esposto, affinché non si ribellino e non denunciano i sopprusi quotidiani. Quello che i residenti e i negozianti chiedono è una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Basterebbe, dicono, un pattugliamento regolare delle strade per scoraggiare il ripetersi di questi fatti. Da oggi si dicono anche determinati a denunciare regolarmente tutti i futuri casi di vessazione, minacce e disturbo che dovessero subire, affinché, evidenziano nell'esposto alla procura, i responsabili non restino impuniti. Sono convinti, residenti e commercianti, che la collaborazione tra popolazione e forze dell'ordine sia la strada migliore per il recupero della serenità e una garanzia di legalità per tutti.